ciao anime colorace e benvenute in questo nuovo video devo vedere che vi certo devo vedere che vi vedo devo dire che vi vedo sempre meno e questo mi spiace un po per cercare di ravvivare un attimo questo canale vi chiedo allora nei commenti di rispondere a proposte proposta numero 1 nomi maschili per fare il video lo bombi o lo passi almeno tre nomi per ogni persona che commenta ma se non ve ne vengono tre va bene nomi dello spettacolo nomi di youtube nomi di ragazzi che pensate che possono essere belli o uomini proposta numero 2 video ask potete fare più domande a persona ma anche una sola domanda persona sarà accettata non credo che taglierò più di tanto questo video perché sarà veramente molto corto e perciò vi chiedo di partecipare a questo video se siete nuovi iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i prossimi ciao